No, questo no. Io avevo sentito in giro che offrivano anche 70, 71 euro. No. Ciao. Ciao, permesso. Prego, vieni. Senti, ti ho visto su TikTok. Ok. Ed ero interessato a vendere dell'oro che ho trovato in casa. Vai, veniamo. Ho anche questo bracciale che è bello grosso. No, questo non è oro. No? No, questo qui è argento 925. Niente, allora, questa collana qui, questo è acciaio. Ok. Questo invece lo pesiamo. 37 euro al grammo oggi, quindi 2023-2025. Ma, scusa, posso farti una domanda? Perché 37 euro al grammo? Eh, perché la votazione, diciamo, del giorno oggi in borsa è il 24 carati, quindi l'oro puro, sta a 56,7. Io avevo sentito in giro che offrivano anche 70, 71 euro. No. Allora, quello è un discorso un po' particolare, nel senso, ci sono appunto dei compro oro che fanno delle pubblicità un po' ingannevoli. Ok. Quindi dicono, se ci porti il tuo oro, te lo paghiamo 70, 80 euro al grammo. Ma com'è possibile che l'oro 18 carati venga pagato più dell'oro puro? Lascia perdere quella tipologia lì di... perché... Sono delle, chiamiamole, truffe legalizzate. Queste pietre qui, adesso le guardiamo, che pietre sono. Documenti, carta identità e poi pagamento bonifico, perché siamo sopra il limite di legge e basta. Martitoコні. Martitoコні. Tant presidente.